Vediamo adesso la soluzione di un circuito di tipo RC serie. Abbiamo come dati la tensione del generatore, supponiamo di averne soltanto il valore efficace 10 volt, del resistore R conosciamo la resistenza 4 ohm, sia la capacità del condensatore pari a 500 microfarad, quindi 500 per 10 alla meno 6 farad, quindi 500 milionesimi di farad, oppure che possiamo rappresentare come 0,5 quindi per 10 alla meno 3 farad. La frequenza della tensione di alimentazione sia 50 Hz, è importante conoscere la frequenza perché sappiamo che la reattanza capacitiva varia al variare della frequenza. Calcoliamo appunto la reattanza capacitiva x con c che è uguale a 1 fratto 2 pi greco f per c. Quindi sostituiamo i valori, ricaviamo dai dati che abbiamo nei dati, quindi 2 pi greco per la frequenza 50 Hz per la capacità di 0,5 per 10 alla meno 3 farad. Solviamo questo semplice calcolo e otteniamo una reattanza capacitiva del valore di 6,37 ohm. L'impedenza sarà data quindi dalla serie di R, meno jx con c. Ricordiamoci che la reattanza capacitiva presenta un'impedenza negativa, quindi sostituendo i valori abbiamo 4 meno j, 6,37 ohm, l'impedenza espressa in forma algebrica parte reale più parte immaginaria. Se andiamo a calcolare nel modulo la fase abbiamo per il modulo la radice quadrata della somma dei quadrati di parte reale e parte immaginaria e per la fase l'arco tangente di parte immaginaria che è meno 6,37 diviso parte reale che è 4 nel nostro caso. Calcoliamo i risultati, abbiamo un modulo di 7,52 ohm e un angolo caratteristico dell'impedenza pari a meno 58 gradi, unità di misura ohm. A questo punto utilizzando un piano di Gauss andiamo a rappresentare l'impedenza. Abbiamo la parte reale e la parte immaginaria, sviluppiamo nel quarto quadrante, essendo l'impedenza come abbiamo visto a parte immaginaria negativa, quindi abbiamo una parte reale pari alla resistenza, quindi 4 ohm, la parte immaginaria pari alla reattanza capacitiva cambiata di segno, quindi meno 6,37 ohm. La composizione vettoriale di questi due componenti mi consente di tracciare il segmento, il vettore che rappresenta l'impedenza della RC serie, quindi l'impedenza vedete che si trova nel quarto quadrante, modulo 7,52 ohm, angolo caratteristico uguale a meno 58 gradi. Utilizzando la legge di ohm generalizzata possiamo calcolare la corrente nel circuito, quindi tensione fratto corrente e vettoriale, quindi abbiamo la tensione modulo 10, valore efficace 10, possiamo scegliere un angolo a nostro piacimento non essendo nei dati, quindi scegliamo 0 gradi per semplicità, l'impedenza modulo 7,52 fase meno 58 gradi, il rapporto, calcoliamo il rapporto dei moduli per ottenere il modulo del risultato e la differenza delle fasi, quindi 0, meno, meno 58 gradi, che quindi diventa positiva, il risultato è 1,33 ampere, approssimato, con fase 58 gradi. Ovviamente una corrente in anticipo sulla tensione, come succede nei circuiti a componente capacitiva. Andiamo a rappresentare il diagramma vettoriale delle tensioni e delle correnti nel circuito, nel piano di Gauss, reale e immaginario. Abbiamo stabilito, scelto, che la tensione, della quale conoscevamo solo il valore efficace 10, abbia fase 0, quindi giace sull'asse dei reali, questa è la tensione, il modulo 10. Adesso andiamo a rappresentare la corrente, possiamo tranquillamente cambiare scala per la rappresentazione delle correnti, quindi questa sarà la corrente I di modulo 1,33 ampere con fase 58 gradi e come vediamo dal diagramma in anticipo sulla tensione V. Manca ancora la rappresentazione delle tensioni ai capi della resistenza e ai capi del condensatore. Abbiamo che la tensione ai capi della resistenza sarà data dal prodotto R per I vettoriale, dove R è un numero reale puro di modulo 4, fase 0, quindi la corrente è quella nel circuito, quindi 1,33 ampere fase 58 gradi, ovviamente la tensione ai capi della resistenza risulta in fase con la corrente di modulo 4 per 1,33 e fase data dalla somma delle fasi, scrivevano per intero in questo primo esercizio, quindi 0, fase della resistenza, più 58 gradi, quindi complessivamente il risultato è 5,32 ampere, scusate, volt, 58 gradi la fase. Quindi vedete in fase con la corrente ai capi del condensatore, ugualmente possiamo usare la legge di Ohm generalizzata, dove moltiplichiamo la ZC che è la meno JX con C che moltiplica vettorialmente la corrente, quindi meno JX con C a modulo X con C e fase meno 90 gradi che moltiplica la corrente modulo I fase 58 gradi, facciamo la sostituzione dei moduli, X con C a modulo 6,37 Ohm, fase meno 90, il modulo della corrente è 1,33 ampere, fase 58 gradi, e il risultato ha un valore efficace di tensione ai capi del condensatore pari a 8,47 volt, con una fase data dalla somma delle fasi, quindi meno 90 più 58 e otteniamo una fase di meno 32 gradi, ovviamente volt, che risulta essere, vediamo, in tensione, in ritardo di 90 gradi sulla corrente, quindi la VR sarà lungo la direttrice della corrente, già c'è sullo stesso segmento, la VR si deve comporre con la VR in base all'equazione di Kirchhoff alla maglia in modo che la somma vettoriale di VR e di VR sia uguale alla tensione del generatore V, quindi la VR questa, che vedete è in ritardo di 90 gradi sulla corrente, e la VR invece in fase con la corrente, questa, quindi la loro composizione vettoriale vi fornisce la tensione del generatore.